Il calcio di Lega Pro Il calcio di Rosario Maiella e Giuseppe Fella, ieri mister Vullo nel test amichevole, ha provato gli undici da mandare in campo contro l'Interreggio. Quasi quattro anni dopo, riecco Rosario Maiella, l'amico del gol, il giocatore della famosa rete irrovesciata alla provasto del 5 novembre 2007, che scatenò un'emozionante esultanza del presidente Capone presente a bordo campo. Rosario non si lasciò benissimo con il presidente nell'estate 2009, il vizio del gol non l'ha perso nemmeno a Nardone, tantomeno ad Avellino, ma nemmeno a Caserta l'anno scorso in Serie D, 28 reti per lui, squadra da cui proviene. Torna in rosso blu riabbracciando l'amico Ciccone con tante cose cambiate rispetto alla situazione lasciata due anni fa. A cominciare dalla categoria, dalla D in cui ha fatto 48 gol con la maglia rosso blu agli obiettivi, all'epoca si lottava per il primo posto, sfuggito per quattro punti, ora c'è da mantenere a tutti i costi la Lega Pro. Maiella ritorna a carico di responsabilità ed entusiasmo, il ragazzo umile di sempre sarà già a disposizione per l'importantissima gara di domenica in Calabria. Vullo ottiene così due attaccanti, Maiella e Fella, quest'ultimo under cui seguirà un dimagrimento del reparto offensivo. I giocatori partenti dovrebbero essere Morante, lo stesso Modica e Candrina, i tre citati, stanno anche lavorando a parte e non dovrebbero nemmeno ricevere la convocazione per domenica a Reggio. Tra i criteri che Ciccone adotterà nello snellimento della Rosa c'è anche quello della spending review, alcuni atleti infatti gravano troppo sulle tasche di Capone. Vullo pensa anche di cambiare modulo e di passare dal 4-4-2 al 3-5-2, l'Inter Reggio risponderà da parte sua con un classico 4-4-2. Ieri non si è allenato di vicino per uno stato influenzale, dall'occo ha agito dietro le punte nella consueta partitella, Vullo conta comunque di recuperare l'ex Ternana. Ancora in dubbio la Keb, in buono stato di forma con Ate, che partirà certamente dall'inizio in coppia proprio con Maiella. Ha sperimentato un centrocampo più folto con Esposito e Di Libero che avranno l'onere di aprire la difesa dell'Inter Reggio. Squadra calabrese che soltanto nelle ultime settimane ha migliorato il proprio lorino interno delle quattro vittorie stagionali. A domicilio la metà sono arrivate nell'ultimo mese contro Melfi e Fondi. Si giocherà senza pubblico quasi, in uno stadio che non farà confusione, d'altronde basta constatare che anche le partite della regina in Serie B non attraggono folle imponenti. Per ricavare che le sorti dell'Inter Reggio e Lega Pro stanno ancora meno a cuore agli abitanti di Reggio Calabria. Abbastanza impegnativo il mese di gennaio per il Campobasso anche in fatto di spostamenti. I lupi ospiteranno l'Arzanese e il Chieti a cavallo, poi tra gennaio e febbraio invece si andrà due volte in Toscana rispettivamente contro Poggi Bonzi prima, Ponte d'Era poi. È tornato ad indossare la casacca rosso-blu Rosario Maiella, 68 presenze e 48 gol nei due anni trascorsi in maglia rosso-blu in Serie D, mentre lo scorso anno ha realizzato 28 gol con la Casertana. Riecco di a Campobasso, tante le situazioni differenti rispetto al periodo 2007-2009 a partire dalla categoria e a partire dagli obiettivi che il Campobasso dovrà inseguire. Cosa hai fatto in questi anni? Ma niente, ho semplicemente fatto quello che avevo tralasciato qui a Campobasso. Sono andato comunque nelle piazze molto esigenti come Avellino, Nardò e la Casertana stessa. Quindi diciamo che è stato un percorso che poi mi ha riportato qui, quindi è solo una grande emozione. Veramente non ho pensato due volte per ritornare qui a Campobasso perché mi è stata proposta questa opportunità, vedendo che negli ultimi anni cercavo di fare il monte per cercare di vincere con un progetto, la sediva e poi rimanerci inserire il ciro. Non ci sono riuscito ad essere presentato questa occasione e ringrazio comunque il Campobasso che me ne sta dando. Quando sei andato via lo hai fatto con qualche rimpianto, ma ti saresti mai immaginato di poter ritornare qui a Campobasso? Sinceramente sono andato via con grandi rimpianti perché ci stavo bene. Sapevo della stima della piazza, sapevo della stima stessa della famiglia Capone, quindi sono andato via perché comunque era il momento che ci dovevamo lasciare e dovevo andare su altri ridi. Però ecco, un mio ritorno fino a quando c'era la speranza che l'età mi dia la forza di mettere il piede sul campo, quindi c'era sempre. Non ti nascondo che comunque ho sempre rifatto per il Campobasso perché comunque non mi aspettavo magari di tornare in Lega Pro, anche se già l'anno scorso lo potevo fare, però sapevo che non c'erano le possibilità, quindi non ci abbiamo provato. Invece quest'anno sapevo che c'era una minima possibilità, la società si è messa a disposizione della Casertana, quindi è giusto che sia così e sono felicissimo. Si dice che i cavalli di ritorno non vadano troppo forti, tu cosa ribatti a questa tesi? Può darsi, spero che non sia il mio caso perché io continuo comunque a lavorare come lavoravo tre anni e mezzo fa, sto bene fisicamente, quindi cerco di dare il massimo come ho fatto tre anni e mezzo fa, sputando sangue per questa maglia. Per le squadre giovanili rosso-blu una settimana in più di riposo, per gli allievi e i giovanissimi domani pomeriggio alle 14.30 in campo, solo la squadra Berretti e i ragazzi di Rienzo ospiteranno il Foligno. Podismo Andrea Lalli è pronto per tornare in gara domenica, nel giorno dell'Epifania, il Molisano sarà ai nastri di partenza della gara del Campaccio a San Giorgio sul Legnano. Adesso il calcio di Serie D, per ora solo parole, nessun fatto a disernia, per motivi lavorativi dell'imprenditore di fuori regione, il presidente Monfreda ha rinviato il Summit. Il Termoli attende al Cannarsa Lastrea, mister Giacomarro all'organico al completo e la squadra voglia di riscattare sia il KO contro il San Nicolò che quello subito nel debutto di stagione in casa della Strea. Il Giro di Boa, coinciso con la fine del 2012, ci consegna una situazione abbastanza definita sul cammino delle tre molisane del Giron F della Serie D. Il 6 gennaio si torna in campo per la prima giornata del Girono di Ritorno, un cammino che si fermerà solo domenica 10 febbraio per la disputa del classico torneo Carnevale di Viareggio, dove sono impegnati diversi giovani della Serie D. Poi sino al 5 maggio, tutto in apnea, con pagine in campo anche il 28 marzo, giorno di giovedì santo. Come dicevamo, la situazione è più o meno definita, con l'Isernia alla ricerca di soluzioni societarie per la salvezza. A proposito, per motivi lavorativi dell'imprenditore di fuori regione, il presidente Monfreda ha rinviato il Summit a data da destinarsi. Poi l'Olimpia agnonese, a metà classifica, con un occhio alle spalle per evitare situazioni scomode. Ed infine il Termoli, attualmente al quarto posto, a meno 8 dalla capolista San Cesareo. Il focus va concentrato proprio sui giallorossi. Torniamo a 20 giorni fa. Il Termoli batte la Miterrina in casa e viaggia sulle ali dell'entusiasmo con nuovi acquisti e un secondo posto a due lunghezze dal San Cesareo. In previsione, sulla carta, due gare abbordabili, con Renato Curia Angolana e San Nicolò. Appunto sulla carta, perché arrivano due sconfitte inaspettate, in particolare l'ultima nel recupero del 30 dicembre, in casa contro l'ultima della classe. Nel topogara, mister Giacomarro ha dichiarato che una battuta a vuoto ci può stare. Giusto, per carità, ma adesso il Termoli deve riprendere il cammino e lottare per i vertici. La forza della squadra è sotto gli occhi di tutti e anche se i basso molisani sono una matricola al rientro in Serie D dopo diversi anni, hanno il dovere di lottare per questo campionato sino alla fine. L'avvio del 2013 non è di certo agevole. Domenica al Cannarza arriva la Strea, squadra quella laziale, sempre competitiva, ma in crisi di risultati con una sola vittoria nelle ultime sette gare. Tra nove giorni invece ci sarà il Super Big Match, in trasferta contro il San Cesareo, una gara fondamentale per la stagione. Di certo si deve vincere prima in casa contro la Strea, ma la partita contro la Capolissa ha un valore diverso. I romani hanno imposto un ritmo forse nato in classifica, con 12 vittorie e tre pareggi e solo due sconfitte, una delle quali proprio al Cannarza è per ben 3-0. Dunque deve partire forte il team del Presidente Cesare. Si può e si deve recuperare terreno per rendere ancora più storico questo ritorno in Serie D. L'Iserne invece sarà impegnata a Pesaro contro la Vis, la classica partita sempre con la formazione Juniores. Ad Agnone la sosta è stata utile per recuperare gli infortunati. Mister Urbano contro la Civitanovese non avrà a disposizione solo Pellegrino, ancora alle prese con la pubbalgia. Intanto il Presidente Masciotra loda la sua squadra. Carmine Masciotra, dunque Olimpio Agnonese, che ha chiuso il girone d'andata, più o meno come vi immaginavate che dovesse chiuderlo, insomma in una posizione assolutamente tranquilla, anche se nelle prime giornate di campionato qualcuno, cioè il buon rendimento della squadra, aveva probabilmente alimentato anche qualche idea di partecipare a un campionato in una posizione migliore di classifica. Diciamo che noi siamo perfettamente in linea con i nostri programmi. Le ambizioni di qualcuno non devono contrastare con quelle che sono le nostre reali possibilità in questo campionato. Le reali possibilità dell'Agnone sono quelle, anzi siamo già al di sopra delle nostre possibilità, quelle di mantenere questa categoria, di mantenerla senza passare per i play-out, che comunque poi sarebbero una lotteria, quindi diciamo soddisfatti, vediamo crescere i nostri ragazzi, che dal vivaio approdano sui campi di Serie D, magari qualcuno ci possiamo permettere anche di espatriarlo, e questo per noi è già un grosso motivo di soddisfazione. Quindi ripeto, se qualcuno ha fatto dei pensieri velleitari, se li togliesse dalla testa, perché è chiaro che i risultati positivi che avvengono, pareggiare con squadre che hanno ambizioni di vincere il campionato e che comunque hanno un blasone ci fa piacere, però ciò non toglie che dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Certamente, parte il girone di ritorno dal 6 gennaio, avete bisogno di qualche piccolo ritocco oppure pensate di andare avanti così? Sì, noi pensavamo di essere un po' deficitari in difesa, pensavamo di prendere un portiere che ci desse più garanzie e più sicurezza, e l'abbiamo preso, il via Selle è un ottimo acquisto. Abbiamo preso Di Berardino, che sta dimostrando tutto il suo valore, sicuramente un giocatore di categoria superiore, che ci dà più tranquillità in mezzo alla difesa, quindi diciamo che i nostri obiettivi, cioè quello che ci eravamo prefissi di aggiustare nella squadra, lo abbiamo fatto, quindi adesso va bene così. Quindi andate avanti tranquilli, cercando di mantenere queste posizioni? È il nostro obiettivo, se poi viene qualcosina di più, lo prendiamo. Il nostro obiettivo principale è quello di, oltre a fare i risultati che servono per mantenere la categoria, è quello di far divertire la gente la domenica, e in questo ci stiamo riuscendo a pieno. Atletica domenica, la nuova Atletica Isenne in occasione dell'Epifania, organizzato anche quest'anno la manifestazione, correndo con la Befana, gara podistica non competitiva di 6 km aperta a tutti, percorso più breve per i bambini, che copriranno una distanza di 500 metri, il ritrovo è previsto alle 10 in piazza Concezione, con partenza alle 11. Calcio, ieri si è finalmente giocato, il recupero tra Vasto Girardi e Fornelli, gli ospiti hanno vinto 2-0, grazie ai gol messi a segno al 45esimo da Ucci, al 74esimo da Guadagno, da notare due espulsioni, per il Fornelli al 31esimo Consolazio, per il Vasto Girardi al 77esimo Padula, per scorrettezza. In classifica, il Fornelli si porta a quota 38, a meno uno dalla capolista Boiano, 29 i punti del Vasto Girardi. riprendono ufficialmente domani i campionati regionali d'eccellenza e promozione, il via domani pomeriggio con gli anticipi. Dopo la pausa natalizia domani, le compagini di eccellenza e promozione scenderanno in campo per gli anticipi della prima giornata di ritorno. Per la massima serie regionale, saranno tre i match in programma. All'antistadio Selvapiana, il Campobasso 1919, ospiterà il Rocca Ravindola e cercherà di allungare ulteriormente la serie positiva, dopo le tre vittorie consecutive accumulate nelle ultime giornate di andata. Altra gara in programma nel pomeriggio di domani sarà quella tra la Gioventù Calcio Dauna, 31 punti in classifica, e Virtus Matesina, quota 15. Le due compagini si scontreranno sul comunale di Casalnuovo-Monterotaro. Ultimo match d'anticipo per il torneo di eccellenza, quello tra Venafro e Gambatesa, la formazione di casa con appena 11 punti in classifica, reduce dalla sconfitta con la Maronea, dovrà dunque vedersela con la grintosa neopromossa che avrà tutte le energie per riscattarsi dall'ultima sconfitta contro il Montenero. Queste le gare in programma per l'eccellenza regionale. Passando al campionato di promozione, sono ben cinque gli incontri previsti. Sul sintetico di Riccia scenderanno in campo il Casale e il Biferno, due formazioni divise da solo i quattro punti in classifica. La squadra di Mister Longo, a quota 19, cercherà la vittoria per riscattarsi delle due sconfitte consecutive con cui ha chiuso il 2012, mentre il Biferno, che è ambito alle posizioni più alte in classifica, conquistando al momento il quarto posto, cercherà anch'essa di fare bene vista l'ultima sconfitta contro l'Ermestoro. Proprio a proposito di quest'ultima compagine, questa domani ospiterà tra le mure amiche il Roseto. Un Roseto che, seppure sconfitto nell'ultima giornata di andata dalla Sant'Eliana, ha accumulato ben 29 punti, a meno due dalla prima in classifica. Gara importante sarà quella tra Comprensorio, Verano e Alife. Il Verano, terzo in classifica, è reduce da due pareggi consecutivi, mentre l'Alife, che occupa il quinto posto in graduatoria, ha pareggiato l'ultimo match con la Cliternina prima del break di Natale. Sul comunale di Trivento, invece, sceneranno in campo Rocca Vivara e Campo di Pietra. La squadra Trignina staziona nelle zone basse della classifica e dovrà mettercela tutta per cercare di conquistare qualche punticino contro la prima classificata Campo di Pietra. Per queste gare il fischio d'inizio è previsto alle 14.30. Unico anticipo che prenderà inizio alle 15.30 sarà quello tra Nuovo Montacuila e Nuovo Vinchiaturo. Si giocherà al Castaldi di Rocca Ravindola. Domenica il Pala Unimo l'ospiterà la finale della Coppa Italia regionale di calcio a 5 in campo Lisernia ed il Venafro con fischio d'inizio alle 17.30. Per il campionato di Serie B la Five Campobasso sta lottando per mantenere la categoria. Quest'anno il club del capoluogo ha puntato solo sui giocatori locali partendo anche dal tecnico Marco Sanginario ormai un abitué della categoria. Noi lo abbiamo avvicinato. Marco Sanginario, l'ultima partita tra l'altro noi l'abbiamo anche ripresa. Insomma è stata una bella vittoria contro il San Michele. Una vittoria credo che abbia diciamo anche rinvigorito un po' il morale. Sicuramente ce n'era bisogno di questa vittoria. la cercavamo già da un po' di tempo già con il conversano in casa abbiamo fatto una buona prestazione però come sempre abbiamo peccato su errori di singoli giocatori. Invece sabato scorso abbiamo fatto una grande prestazione come abbiamo dovuto ammirare anche dopo sui canali di Tele Molise. Senti, è difficile fare sport è difficile anche fare calcio a 5. Noi vediamo ogni anno adesso quest'anno c'è il Venafro se non mi sbaglio, no, l'Esernia nel campionato di calcio a 5 che sta facendo anche bene ma è difficile perché a certi livelli evidentemente c'è bisogno anche di un certo budget. Sicuramente, viviamo in un momento storico abbastanza complicato e questo si ripercuote anche a livello sportivo è inutile negarlo. Noi stiamo facendo veramente mille sacrifici per portare avanti questa Serie B e tra mille difficoltà stiamo onorando il campionato. Io spero che sia diciamo un periodo che passerà presto in modo tale da riuscire a rifare sport a certi livelli e con certi principi diciamo di semi-professionismo come la categoria vuole. Quindi quest'anno avete cercato di insomma di ridurre al minimo le spese anche dei giocatori? Assolutamente sì abbiamo un budget minimo abbiamo soltanto qualche rimborso spese per i ragazzi che è veramente un rimborso spese e stiamo limitando al nino ogni spesa stringiamo i denti e raggiungere gli obiettivi in queste situazioni in queste difficoltà io credo che sia un motivo di orgoglio da parte di tutti. Certamente quindi andate avanti cercando la salvezza. Sicuramente sì cerchiamo il prima possibile di riuscire a trovare questa salvezza speriamo di riuscire a trovarla il prima possibile e non sarà semplice perché le squadre che stanno dietro siano tutte rinforzate con elementi di esperienza noi abbiamo preso un under 25 che è Bobbo Sala sempre rispettando i nostri parametri che sono quelli dell'economicità e della territorialità perché insomma abbiamo tutti i giocatori del posto io credo che ci giocheremo le nostre chance fino all'ultimo e soprattutto non siamo come molti dicevano la squadra Materasso e l'abbiamo dimostrato. Sarà trasmessa indifferita sulla seconda rete di Telemolise Canale 12 la gara tra Five e San Michele con inizio alle 16.30 mentre alle 20.30 entra in onda sul Canale 112 Telemolise Sport pallavolo femminile di Serie B2 domani undicesima d'andata la nuova pallavolo Campobasso affronterà in trasferta Manoppello la gara fra inizio alle 20 riprenderà tra le muramiche la stagione dell'Europea 92 che ospiterà il Pozzuoli a partire dalle ore 18 e 30 Basket questo fine settimana riprendono i campionati sia in divisione nazionale C che in C regionale Anche il campionato sotto canestro riapre i battenti questo fine settimana anche se non tutte scenderanno in campo ma andiamo con ordine e partiamo dalla divisione nazionale C Il Venafro aprirà il 2013 con uno scontro diretto in casa del Trani entrambe le squadre stazionano nel cuore della classifica a quota 12 punti In questo periodo di sosta coach Arturo Mascio ha lavorato con i suoi ragazzi soprattutto sull'approccio psicologico alla gara Le sconfitte rimediate fino ad oggi sono frutto per lo più di cali di concentrazione Sulle cinque squadre inserite nel campionato di C regionale solo tre scenderanno in campo Ripa Limosani e Campobasket osserveranno il turno di riposo Ad aprire l'ultima giornata del girone di andata ci penserà domani l'NBC Campobasso che sarà di scena in casa del Penne che chiude della classifica a quota 0 una chance importantissima ma tra le fila del Penne gioca il miglior realizzatore di Flavio con una media punti di 30 a gara un giocatore da tenere sotto controllo ospiterà domenica una delle due capoliste il Termoli al Palasabetta arriva il Pescara due ottime squadre che possono puntare al salto di categoria entrambi i quintetti giungono a questa gara con una settimana in più di riposo dato che nella quattordicesima giornata non sono scese in campo trasferta per l'Isernia che condivide il secondo posto proprio con i cugini del Termoli a quota 18 i Pentri faranno visita all'Atri gara sulla carta abbordabile gli abruzzesi ad oggi hanno conquistato 8 punti palla 2 sia domani che domenica sempre alle 18 domenica il Marchese del Prete di Venafro ospiterà la partita del cuore dedicata a Salvatore di Lauro giovane promessa del calcio molisano venuto a mancare troppo presto alle 15 domenica scenderanno in campo gli amici di Salvatore e una squadra delle vecchie glorie bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio è tutto per la